La provincia di Salerno prosegue i lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi della SR ex SS447 tra Pisciotta e Palinuro. Fu predisposta la chiusura del tratto di strada in località Gabella all'altezza dell'Ido Anireip fino all'ultimazione dei lavori e al ripristino delle condizioni di sicurezza per il transito veicolare. I lavori proseguono senza sosta, ha affermato il presidente della provincia Michele Strianese, per eliminare un dissesto franoso rilevante verificatosi da tempo. Utilizziamo fondi regionali POR-FESR che il presidente De Luca ha messo a disposizione della provincia di Salerno e in particolare per questo territorio. Abbiamo realizzato tutta la palificata di sostegno del versante ed è in fase di getto il cordolo di coronamento della palificata stessa. Contiamo di riaprire fra qualche settimana il transito a senso unico alternato. Ci scusiamo per i disagi che stanno sopportando i cittadini e imprenditori, ma ora che le condizioni meteorologiche si sono assestate, sicuramente potremo proseguire più speditamente. L'intervento è coordinato dal settore viabilità e trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal consigliere provinciale delegato alla viabilità Antonio Rescigno.